La radice per cavare la radice lateralmente oppure direttamente con la parte per l'appoggio del piede. La radice per cavare la radice lateralmente oppure direttamente con la parte per l'appoggio del piede. La radice per cavare la radice lateralmente oppure direttamente con la parte per cavare la radice lateralmente Grazie a tutti. Il capitale di passare a lavorare il terreno anche durante la preghetta della scultura in campo. Allora in quel caso lì, prima dell'aratura facciamo degli altri lavori che si chiamano lavori di messa a cultura. I lavori di messa a cultura comprendono proprio anche i lavori grossolani, per esempio lo spietramento. Bisogna eliminare la maggior parte dei massi, dei sassi grossi che possono essere finiti nel periodo cui, dal punto di vista della fertilità. Quindi si stanno ampliando, stanno diffondendo i lavori di messa a cultura. La scultura è la voglia di provare il nostro lavoro. La scultura è la scultura. La scultura è la scultura. La scultura è la scultura. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.